Filippo Carobbio buongiorno grazie di essere con noi quest'oggi, non è passato tantissimo tempo dalla fine del campionato, riavvolgiamo leggermente il nastro e partiamo dall'ultima grande emozione vissuta ovvero il pareggio contro il Crema che sancisce la permanenza in Serie D della squadra, senza parlare del pregresso che toccheremo dopo. Cosa hai lasciato dentro quella giornata e quella grande festa finale? Tanta gioia, tanta emozione e la gioia è venuta dopo un percorso molto sofferto e molto difficile e questa sofferenza e questa difficoltà nel raggiungere questo obiettivo ha fatto sì che la gioia fosse ancora più grande perché è conquistata veramente con grande rabbia e con grande determinazione da parte di tutti, da parte mia, dal mio staff, del gruppo, della società, dei ragazzi, quindi tanta gioia. Poi festeggiare davanti a tanta gente, a tanti ragazzi del settore giovanile, a tante persone che gravitano intorno alla famiglia Cili è stato ancora più emozionante. Nessuno all'interno della società, soprattutto all'interno dello spogliatoio, ha mai smesso di credere nella salvezza? È stato un percorso lungo, irto di ostacoli. Quanto è stato difficile mantenere la mente lucida in tanti frangenti delicati e soprattutto mantenere alta la tensione senza bruciare troppe energie? Non è facile, non è facile nei momenti difficili trovare sempre la serenità e la tranquillità per portare e guardare avanti con positività. Sicuramente una mano ce l'hanno date i nostri avversari che nel nostro periodo peggiore comunque abbiamo sempre visto la salvezza mai lontanissima e questo ci ha sempre dato forza e sicurezza che se le cose fossero girate, se avessimo inanellato qualche risultato positivo, potevamo rientrare tranquillamente nel giro salvezza e soprattutto nella zona play out perché quello poi a fine andata era il nostro obiettivo visto la nostra andata e vista la distanza che avevamo dalla salvezza diretta. Siamo stati bravi comunque a mantenere la calma, la tranquillità e a lavorare duro. A lavorare duro ma andando giù anche dei bocconi amari in momenti difficili io e i ragazzi. Però ci abbiamo sempre creduto quando ci trovavamo nello spogliatoio nei nostri quattro muri dove ci siamo detti sempre tutto. Guardandoci in faccia ci abbiamo sempre creduto e sapevamo che comunque il miracolo o l'impresa era possibile. Siamo stati bravi e anche forse un pizzico fortunati a ottenerla, fortunati nel senso che gli altri ci hanno un po' agevolato, nel senso che le altre squadre non hanno mai corso tantissimo e sono sempre state a debita distanza e le abbiamo sempre avute nel mirino. Fino a quando mi hanno fatto poi quella serie di risultati importanti che ci ha permesso di uscire direttamente dalla zona play out e conquistare questa salvezza diretta che a Natale sembrava veramente difficile. Quanto lo enorgoglisce come allenatore il fatto che nei primi sei mesi di campionato la squadra era identificata come una squadra che proponeva un bel gioco, giocava a calcio, propositiva, con una sua propria identità. Però mancava magari a livello caratteriale, l'episodio non girava a favore, quindi poi mentalmente si faceva fatica a ribaltare in corso d'opera la partita. Un limite che tutti definivano importante. Nei secondi cinque mesi, sei mesi, definiamo così, quindi da gennaio a maggio la squadra ha mantenuto un'identità di gioco comunque abbastanza ben precisa pur cambiando modulo, cercava sempre il fraseggio a terra eccetera, ma ha avuto una crescita sotto l'aspetto caratteriale e mentale importantissimo e queste cose si ottengono solo se c'è una trasmissione da parte dello staff, dall'allenatore. Allora devo dire partendo dall'inizio, come dici te, avevamo impostato una nostra filosofia, una nostra idea di gioco importante e che ci faceva divertire a me che allenavo e ai ragazzi che recepivano queste idee. Devo dire che lì forse c'è stata poca pazienza da parte un po' dell'ambiente di aspettare i risultati che secondo me sarebbero venuti, anche continuando a giocare così, però era giusto comunque dare probabilmente una sferzata e dare un cambio e trovare una chiave per poter fare qualche risultato che fino a quel momento latitavano. Però pur cambiando in quel momento non arrivava niente e anche se le prestazioni c'erano forse ci mancava un pizzico di rabbia, un pizzico di terminazione e un pizzico di spirito positivo, diciamo, che invece si ha contraddistinto nel giro di ritorno. Diciamo che quella è forse stata la molla. Il fatto di aver inserito qualche giocatore che non ha vissuto i primi cinque mesi probabilmente ci ha dato un qualcosa in più dal punto di vista dell'intensità e, come dicevo, dello spirito. Un po' più di positività anche nello spogliatoio. I nuovi l'hanno portata perché non hanno subito un po' quello che abbiamo subito qualcuno nei primi 4-5 mesi e quindi quello ci è servito per capire che questi nuovi ci hanno fatto capire che con un atteggiamento diverso, con una propositività diversa si poteva ottenere qualcosa di importante e da lì in poi abbiamo cambiato il vero modulo, continuando sempre comincite a fare buone prestazioni, ma abbinate alle buone prestazioni ci abbiamo messo poi tanta determinazione, tanta intensità e tanto spirito e poi logicamente i risultati aiutano e c'è stata più consapevolezza poi e da lì diciamo che non abbiamo più abbandonato la strada e anche se sono arrivate qualche sconfitta abbiamo capito, avevamo la consapevolezza che stavamo facendo qualcosa di importante e che qualcosa di importante l'avremmo raggiunto prima o poi. Leggere i numeri a volte è riduttivo perché se leggiamo i numeri l'attaccante che ha segnato più gol, l'attaccante puro che ha segnato più gol è A4, ovvero Aloia e Zecchinato arrivati a generale ha segnato a quattro reti. Leggere i numeri è riduttivo perché ogni calciatore, componente della Rosa, che ha giocato di più durante l'anno ovviamente, ha avuto un periodo in cui è stato determinante. C'è stato il momento in cui è stato determinante magari Comotti, il momento in cui è stato determinante Minelli, Andriani, Viotti prima, Valtorta poi. Chi ha mantenuto un livello determinante altissimo durante la stagione è stato Mauri che poi a fine campionato l'ha ringraziata perché l'idea di spostarlo come attaccante Puro ce l'ha avuto lei e questo ci permette di parlare due cose. Uno, della prestazione durante l'anno di Mattia Mauri su cui pochissimi a parte Ciliverga e lei avrebbero puntato all'inizio stagione e due, la forza di un gruppo perché il singolo viene esaltato solo se c'è una pluralità forte intorno a lui. Vero, è vero. Questo è perché Ciliverga e squadra Ciliverga quest'anno non era basata sui singoli, ma era basata sul gruppo. Io poi sono fermamente convinto della forza del gruppo e dell'importanza del gruppo e delle regole da mantenere all'interno di un gruppo, del rispetto che si vuole per portare avanti un gruppo e per farti capire Baccaio Colgattuso è stata la parte di Gattuso tutta la vita, nel senso che ci sono atteggiamenti che mancano di rispetto al gruppo e questi non possono essere sopraseduti, assolutamente. Io sono per quella linea e devo dire che il gruppo poi è sempre creduto in queste mie regole e probabilmente qualche volta, però in linea di massima penso sempre di essere stato coerente e credibile a questo punto di vista e forse questo è stata l'arma mia, nel senso che mi ha consentito di, anche in momenti difficili, di comunque sempre tenere il gruppo dalla mia parte. Modesti a parte, nel senso, la parte di scherzi, era per dire che è una cosa importante e forse quest'anno è stata la chiave, in questo senso, per poi poter risalire. Per quanto riguarda Mauri, io ricordo che all'inizio qualche problema l'aveva avuto anche lui, mi ricordo che a Modena non aveva giocato all'inizio e quindi anche per lui è stato un percorso, è stato un percorso all'inizio un po' complicato, poi quando lui ha capito anche lui che doveva mettersi a disposizione una squadra che poteva essere gestito per via dei suoi problemi in passato e quindi in questo senso, però comunque quando lui andava in campo in allenamento doveva sempre dare il 100% se entrava in campo. Se avesse avuto qualche problema, poteva strutturamente alzare la mano e dire oggi riposare, però ecco la cosa che ci tengo è che mi ricordo quando a Modena l'avevo lasciato in panchina era perché in settimana si era allenato male e lui se ne è accorto, se ne è reso conto, ha capito e da lì in poi diciamo che c'è stata una crescita esponenziale da parte sua. Adesso penso che Mattia abbia una consapevolezza dei propri mezzi massima per quanto riguarda il suo percorso del calciatore e penso che Mattia la Serie D per come sta in questo momento sia stretta lui per il tipo di giocatore è e per le qualità che ha. È normale che se dovesse pensare di tornare e di stare da noi sarebbe tanta roba, però capisco anche lui che possa avere qualche ambizione perché comunque se l'è conquistata sul campo, se l'è meritata e ripeto ha fatto una crescita talmente grande e lo si vede anche in tutti gli allenamenti che adesso ha una consapevolezza dei propri mezzi importantissima che mi rivede un po' lui quando avevo la sua età che arrivi a un certo punto che ti senti padrone della situazione, ti senti di poter fare la differenza in qualsiasi momento. Ecco lui secondo me è in questa fase della sua carriera e la deve sfruttare al massimo. Abbiamo parlato di Mauri che è l'unico singolo di cui abbiamo parlato, il tempo è tirano non possiamo parlare di tutti i vari ragazzi che come diciamo prima si sono esaltati nel corso dell'anno, Careccia, Lirli, Guerci, Cortinovis, Licini, però di tre singoli penso sia bello parlare, tre singoli che magari hanno trovato meno spazio nel corso dell'anno per varie vicissitudini. Uno è Joe Elson che il giorno di ritorno per un infortunio ha potuto dare di meno il suo contributo ma è stato importantissimo durante gli allenamenti, il gruppo nello spogliatoio a instillare fiducia in ogni ragazzo. Bonometti che si è sempre nato col sorriso quindi un elemento estremamente positivo all'interno della squadra e Sola che con la sua grinta anche durante gli allenamenti manteneva altissima l'intensità della seduta, aspetti fondamentali. Prima di parlare di loro tre ci teniamo a fare una premessa che come dici tu io ti rispondo per loro tre perché me l'hai chiesto ma tutti meriterebbero una menzione speciale perché se abbiamo ottenuto questo fantastico traguardo è grazie a tutti e grazie a ogni singolo ragazzo, soprattutto a chi ha giocato di meno, l'ho fatto nello spogliatoio settimana scorsa dicendo che ero grato a chi aveva giocato di meno perché ha consentito agli altri di allenarsi sempre a un'intensità alta e hanno sempre accettato le scelte pur logicamente non condividendole e quindi è grazie a loro e soprattutto grazie a loro appunto per questo raggiungimento. Aggiungerei oltre ai tre nomi che do te anche Delbar perché anche Delbar che è considerato un vecchio visto che non fa più quota, anche lui come Sola li paragonerei, li metterò sul stesso piano, hanno giocato poco quest'anno, poco, comunque hanno giocato e sono sempre fatti di trovare pronti e cominci da soprattutto in allenamento mantengono sempre l'intensità alta, non si lamentano mai, vanno sempre a mille all'ora e sono i giocatori che tutti gli allenatori vorrebbero avere quindi il loro sono l'emblema di questo di questo concetto che ho espresso fino adesso. Bonometti era un ragazzo che è arrivato con tante aspettative, ha avuto qualche difficoltà o perlomeno io ho visto qualche difficoltà nella prima parte di stagione nel ritiro e quindi abbiamo deciso di prendere un suo sostituto. Nonostante questo si è sempre allenato con grande determinazione, anche lui non ha mai detto una parola, è sempre stato presente, sempre sul pezzo e anche lui quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il massimo e quindi anche lui una menzione speciale perché è un ragazzo in gamba e sa dove devi migliorare, l'ha fatto e quindi anche lui è un ragazzo su cui dal punto di vista umano su cui si può contare e poi come dici di te metto Dulcis in fondo come si dice a Joe Elson perché la BC Liga ha anche qualcosa in più che è il rapporto allenatore-giocatore, anzi non qualcosa in più, molto di più però assolutamente lui è stato determinante nonostante abbia giocato poco questo gliel'ho sempre detto, gliel'ho sempre riconosciuto e se qualche lamentela non è sfuggita dallo spogliatoio è perché lui ha sempre cercato di, nello spogliatoio ha sempre cercato di far capire ai ragazzi quali erano le priorità, quali erano gli obiettivi di squadra e che gli obiettivi di squadra andavano oltre l'obiettivo del singolo e in questo senso lui è stato la mia mente nello spogliatoio, nel senso quello che pensavo io, lui lo pensava ma all'interno dello spogliatoio dei ragazzi e pur non avendo giocato penso che è stato uno dei giocatori più importanti dell'anno. Il momento per lei più brutto nell'arco del campionato è quello più bello però escludiamo il momento della salvezza. Allora, il momento più brutto mi sembra scontato però è effettivamente quello, non aver potuto partecipare alla festa di Natale della società primo perché non aver partecipato e secondo perché il motivo per cui non ho partecipato era perché si pensava che io non potessi più essere allenatore del Ciliverghe da lì a venire e questo mi è piaciuto tantissimo, è stata la mia scelta non partecipare e gliel'ho comunicata al Presidente dopo la partita col Fanfulla in casa e visto che ero in discussione ho detto io non me la sento di venire e farla parte di quello che dice due parole e poi magari il giorno dopo essere generato quindi non era giusto e non era giusto neanche meno mettere in difficoltà la società in quel frangente che doveva prendere una decisione difficile perché so comunque quanto il Presidente tenga me e quanto io sono affezionato a questa società quindi qualsiasi decisione poteva venire presa sarebbe stata difficile e non volevo appunto con la mia presenza alla festa mettere in difficoltà la società nel prendere una decisione che sarebbe stata importante per il futuro del Ciliverghe il momento più bello è stato il pareggio Reggio Emilia perché ti dico la verità che un po' l'ho rosicato a non aver festeggiato quel giorno perché abbiamo fatto una grandissima impresa, una grandissima partita in uno stadio che diciamo come da cornice sarebbe stato perfetto per festeggiare quello che dovevamo andare a fare la Calvina ci ha avvengato la festa però vabbè è stata solo rimandata però ecco lì è stato il momento più bello perché abbiamo capito che eravamo salvi ci mancava la matematica però a quel punto ci ha veramente garantito la salvezza e con una grande prestazione in uno stadio fantastico contro una squadra forte lì abbiamo capito che eravamo diventati una squadra forte una squadra conscia delle proprie possibilità ha accennato alla festa di Natale nell'intervista il Presidente Bianchini che ha rilasciato poco tempo fa ha svelato un po' il retroscena della festa di Natale definendo questo referendum popolare pubblico quando durante la festa tutto il pubblico presente ragazzi che sto ragionissimi sentono nel suo nome a dedicarle un applauso che ha dato la forza alla società di dire ci crediamo ancora che era poi probabilmente la scelta che sarebbe nata il giorno dopo però già alla sera del 23 si era capito che si andava avanti assieme dopo la festa e questo amore nei suoi confronti e che poi si è allargato la squadra è stato un filo conduttore soprattutto nelle giorni di ritorno perché lo stadio è diventato proprio un punto di ritrovo importante durante le partite della prima squadra con poi la festa finale che è stata la ciliegina sulla torta la sorprende tutto questo amore che è nato quest'anno dopo 4 anni tra virgolette di fidanzamento tra le lecce di Verge? mi sorprende perché poi alla fine lo si pensa sempre ma poi quando viene dimostrato è la cosa più bella la dimostrazione di un qualcosa di importante che ti lega con questa età è sempre bello avere dimostrazioni in questo senso e lì c'è stata questa dimostrazione la sera me l'hanno detto perché io logicamente non ero presente e il giorno dopo il presidente mi ha chiamato tutto contento e felice che ero stato riconfermato quindi mi ha fatto capire che lui era l'ultima persona probabilmente che voleva prendere quella decisione quando tutto il consiglio l'ha presa l'ha voluta comunicare subito dicendomi che ripartivamo da me e mi ha fatto enorme piacere d'altro canto ti dico anche che una persona non sta 5 anni in un posto se non lascia qualcosa quindi sono grato a Ciliverghe tutta la vita e questo per tanti motivi che sappiamo già ma probabilmente in cambio anche qualcosa ho dato e questo mi fa enorme piacere ecco riprendo le sue parole una persona non rimane tanto tempo in un posto se non lascia qualcosa ci sono ragazzi, giocatori, calciatori che hanno avuto il modo di lavorare con lei per poco tempo in quest'ultima stagione penso che è arrivato anche a campionato in corso lo spogliatoio pubblicamente ha lodato il suo lavoro la sua capacità di gestire l'anno Viotti è andato oltre e hai proprio esaltato il suo saper gestire il gruppo il suo non perdere mai la fiducia negli uomini e in quell'obiettivo che sembrava distantissimo a un certo punto io ho sempre avuto fiducia in questa squadra è normale che qualcosa all'inizio mancava ma poi col tempo l'abbiamo sistemato come ti ho detto anche a dicembre con i nuovi acquisti però la fiducia è sempre stata e io ho sempre creduto che questa squadra potesse fare molto di più quindi probabilmente qualche responsabilità ce l'avevano chiesto all'inizio le cose non andavano è anche vero che poi fortunatamente sono riusciti e siamo riusciti a tirare fuori tutto quello che avevamo dentro e forse ci serviva un pizzico di rabbia un pizzico di cattiveria in più che ce l'ha andata tutte queste situazioni che si sono venute a creare durante l'anno mi fa piacere che che si parli di me in questi termini però io non so se sono un bravo allenatore ti dico la verità non lo so lo scoprirò col tempo o comunque dal mio punto di vista non lo capirò mai se lo sarò io cerco sempre di di fare al massimo di fare al massimo di impegnarmi al 100% penso questo è vero trasmesso i ragazzi e quando una persona dà il 100% e riesce a trasmetterlo poi anche chi ti guarda e chi deve seguire il tuo esempio poi per forza devi dare al 100% altrimenti non sta al passo con te non sta al passo con la maggior parte del gruppo che che si impegna che lavora al 100% quindi questo può essere anche un'altra chiave di lettura io ti ripeto non so se tatticamente sicuramente tecnicamente posso essere all'altezza ma sicuramente una cosa che non ho mai non ho mai smesso di dare è il mio impegno massimo e questo penso che sia stato riconosciuto dai ragazzi e i ragazzi mi abbiano seguito anche per questo motivo sempre il presidente Bianchini ha detto che in questo ultimo periodo vi siete lasciati tanti messaggi tanti abboccamenti è giunto il momento di sedersi al tavolo insieme al direttore e al direttivo che è sempre estremamente presente però ha usato un termine bisogna essersi al tavolo per pianificare quindi? mi fa piacere che il presidente abbia espresso queste ulteriori parole di stima nei confronti lui ha anche detto che bisogna essere in due per fare un matrimonio da quello che ho capito loro ci sono e ci sono anch'io quindi c'è tutto per poter trovare l'accordo per andare avanti e pianificare come dice lui anche perché dal mio punto di vista senza grossi stravolgimenti questa squadra può migliorare tanto e io spero che con qualche innesso di qualità se sarò allenatore e spero che ci sarà questa innesso di qualità e so già o ho in mente già dove poter andare a a chiedere qualcosa di importante alla società penso che si possa fare possa fare bene l'anno prossimo intanto pur avendo vissuto un anno dalle due facce come l'avete definito lei e Minelli e tutti molti altri ragazzi sono tantissime le richieste che arrivano da fuori per entrare a far parte di di questa famiglia e questo fa capire probabilmente le potenzialità che ha questa società se dopo una stagione definiamola travagliata montagne russe c'è tutta questa appeal ma l'appeal viene dal fatto che grazie alla comunicazione che è stata fatta quest'anno e quindi grazie a te il messaggio che esce da Ciliverg è che siamo veramente una grande famiglia e questo senso di famiglia non è solo scritto sui muri noi siamo famiglia ma è anche un qualcosa di più profondo che viene trasmesso all'esterno e quando tu riesci a trasmettere qualcosa all'esterno e non è solo una cosa di facciata la gente si appassiona la gente si avvicina la gente vuole toccare con mano questa questa grande sensazione e poterla vivere insieme insieme alla famiglia insieme a a Ciliverg quindi capisco che tanta gente voglia unirsi a questa famiglia e voglia entrare a far parte di questa famiglia lo capisco perché io ne faccio parte e so che cosa vuol dire non è solamente una scritta sul muro ma è qualcosa di più di modo più profondo Mister grazie di essere stato con noi quest'oggi e arrivederci presto speriamo sì arrivederci io e te ciao ciao